Un gol su calcio di punizione di Antonio Laporta decide il derby dell'Adriatico tra Manfredonia e Monopoli, partita non bella dal punto di vista agonistico, ma interessante per come le due squadre hanno affrontato il match. Meglio il Monopoli nel primo tempo, cinico il Manfredonia nella ripresa. Vadacca cambia molto rispetto al passato, conservando però il suo collaudato modulo con la difesa a tre, fuori del prete, dentro Coccia con la porta terminale offensivo, nel Monopoli passiatore si affida al suo solito e consueto 4-4-2. Al tredicesimo la prima conclusione degli ospiti, Murano recupera palla sul vertice basso dell'area di rigore e calciarete, a Dario è ben appostato e blocca. Al diciassettesimo il Manfredonia, diagonale di Coccia a lato, poi è solo Monopoli, al ventitresimo Grimaudo dal limite calcia di poco a lato, lo imita al trentottesimo Manso, il suo offendente, fa la barba al palo. A pochi secondi dal riposo è ancora Grimaudo a sfiorare il vantaggio per il Monopoli, ma sulla linea salva Vergori. Ripresa avara di emozioni, le due squadre si temono a vicenda, nessuna delle due vuole perdere, ma al decimo un calcio di punizione procurato e battuto dal migliore in campo. La Porta manda in frantumi i piani del Monopoli e regala tre punti pesanti alla squadra di Massimiliano Vadacca.